Come vi ricorderete le macchine elettriche devono emettere un segnale acustico di sicurezza. Ascoltiamo alcuni esempi. Monotono, no? Ma mi direte, la 500 qualcosa di più lo deve avere. Allora, eccolo. Ma l'avete sentito? È l'unico bottore che cata. È come sul vostro telefono, no? La melodia si può cambiare, scaricare, personalizzare. Perché questa non è la voce di un computer, no. È la voce della creatività italiana.